30 aprile 2022 messaggio della madonna a trevignano romano pregate perché la siccità sarà grande a causa dell'acqua che mancherà figli miei grazie per aver risposto alla mia chiamata nel vostro cuore figli cari conosco i vostri cuori e vi dico venite qui in questo luogo benedetto dove io vi prenderò le mani per rialzarvi quando cadrete asciugherò le vostre lacrime quando sarete afflitti e vi consolerò quando sarete disperati io sono qui vostra tenerissima madre per aiutarvi e sono ancora qui come maestra per il vostro cammino seguite i comandamenti che vi sono stati lasciati e ci batevi dei sacramenti figli miei la guerra avanzerà pregate perché la siccità sarà grande a causa dell'acqua che mancherà pregate per i sacerdoti e per le anime che si stanno perdendo perché purtroppo il male è entrato nella casa di dio ora vi lascio con la mia benedizione materna nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen